Buonasera a tutti, bentrovati alla seconda lezione del percorso formativo diventare quant. Questa sera proseguiamo quanto abbiamo introdotto nella prima lezione, che poi era anche la presentazione del percorso formativo, e iniziamo un po' a sporcarci le mani. Quindi iniziamo a toccare un po' più con mano Multicharts, e iniziamo a vedere come si caricano i dati, e iniziamo a vedere come si fa la valutazione di un performance report, che è solo uno degli anelli della catena del processo di valutazione di un trading system. Questa sera la lezione è aperta al pubblico, quindi ci sono gli interessati, c'è chi è venuto a conoscenza da poco del nostro percorso formativo, ci sono già gli iscritti al percorso formativo, vi ricordo che questa lezione viene registrata, e quindi verrà resa a disposizione, e verrà pubblicata sul sito, quindi per poterla rivedere. Dalla prossima lezione invece gli iscritti al percorso formativo riceveranno link con la password di accesso, e lavoreremo in un'aula virtuale. Quindi oggi è l'ultima lezione via webinar, e dalla prossima lezione faremo un meeting. La differenza sostanziale è che con il meeting potrete aprire il microfono e fare anche domande, invece nelle prime due lezioni, visto che siamo in tanti, non c'è questo limite, non è possibile aprire il microfono. Invece dopo saremo in un'aula, tutti vedranno chi c'è, quindi inizierete a conoscere gli altri partecipanti al percorso formativo, e ci sarà sicuramente un'interazione maggiore con anche il docente, o i docenti che parteciperanno alle lezioni. Quindi, partiamo subito. Se avete domande ovviamente fatele tranquillamente, non contenetevi con le domande, anzi approfittatene proprio perché è l'ultima lezione pubblica ad accesso gratuito, quindi approfittate di questo confronto diretto con il docente. Nella prima lezione abbiamo introdotto il percorso formativo, subito dopo è stato caricato il materiale precorso, che consiste sostanzialmente nelle lezioni introduttive degli anni precedenti, che seguono però una logica ben precisa, nel senso che, come vedete, nel 2013 presentammo molti charts, poi caricammo solo i dati nella lezione numero 2, nella lezione numero 3 guardammo solo il performance report, poi iniziamo l'analisi del sistema, l'ottimizzazione, poi ci spostammo nel 2014 sull'infrastruttura e sulla configurazione dell'infrastruttura. Dal momento che iniziamo ad avere molte registrazioni e all'inizio del percorso formativo gli argomenti sono sempre gli stessi, ovviamente li dobbiamo toccare perché, come vi abbiamo sempre detto, tutte le lezioni sono in diretta e quindi il monte ore non si riduce mai, anzi, il fatto di registrare le lezioni è un modo per espandere quello che è la base di ore di formazione che vediamo con questo percorso formativo, anche perché, come sapete, ogni anno poi potete ripartecipare, quindi guardare anche soltanto alcune delle lezioni che vi possono servire, scaricare alcuni dei nuovi sistemi che appunto proponiamo tutti gli anni, riscaricarvi il database, visto che vi diamo noi il database su cui fare i test, e quindi, ripeto, qui c'è il materiale percorso, abbiamo caricato i link per scaricare l'ultima versione di Multicharts 32 e 64 bit, vi avevo già anticipato, ma lo ripeto, che la versione 64 bit si differenzia da quella 32 per la possibilità di utilizzare al meglio le risorse di sistema, quindi il consiglio è quello di, dove è possibile, installare sempre Multicharts 64 bit, quindi se avete un sistema operativo 64 bit, installate Multicharts 64 bit, poi abbiamo caricato già alcuni add-on delle lezioni del 2015-2016, ora inizieremo a caricare sempre più add-on, quindi aggiungeremo sempre più materiale di lezione in lezione, perché, ripeto, gli anni da cui registriamo questo corso ormai iniziano ad essere abbastanza, siamo già al quinto anno che registriamo, quindi abbiamo quattro anni di corso pre-registrato. Per questo ci spostiamo un po', e quest'anno iniziamo con un argomento che l'anno scorso, ad esempio, abbiamo visto alla quinta lezione, questo non per bruciare le tappe, ma in parte anche per rendere più partecipi quelli che seguono il webinar pubblico. Quindi Multicharts, abbiamo detto che è una suite di programmi che lavorano in armonia tra di loro, abbiamo detto che c'è la piattaforma che ci permette di fare i grafici, di automatizzare le singole strategie sui singoli sottostanti, abbiamo detto che c'è il Quote Manager, all'interno del quale devono essere caricati tutti gli strumenti finanziari che vogliamo utilizzare, poi all'interno di Multicharts, c'è il Power Language Editor che è il software che gestisce tutti i trading system, tutti i codici dei trading system e degli indicatori che vogliamo poi poter utilizzare all'interno di Multicharts. C'è il Portfolio Trader che dalle ultime versioni appunto permette anche, visto che si chiama Trader e in passato si chiamava Backtester, permette di automatizzare strategie su portafogli, oltre che di fare il test, e c'è il 3D Optimization Charts che ci permette di, ci aiuta nella fase di ottimizzazione graficando in 3D quelli che sono, tutte le varie combinazioni di input e i risultati appunto di tutte queste combinazioni rappresenteranno quello che è uno dei principali valori del performance report, e stasera iniziamo a parlare proprio anche di questo, dei valori del performance report. Vi avevo invitato ad installare la piattaforma, l'installazione è molto semplice, nel senso che una volta avviata, l'unico consiglio che ho da darvi è quello di, adesso quando parte, ecco, quando vi chiede appunto di installare Multicharts, se non avete installato il .NET Framework, per il momento non mi serve neanche sapere che cosa sia, comunque è l'ambiente di, nel dettaglio, è l'ambiente su cui lavora Multicharts, e quindi senza questo non è possibile farlo funzionare, lo installa in automatico sui computer personali, quindi sui PC oppure sui notebook. sui server è necessario fare un passaggio in più, che vedremo quando installeremo e configureremo insieme il server. per il momento tutti installate Multicharts nel vostro PC. Nel momento in cui cliccate su installa, adesso potrebbe darmi qualche, potrebbe protestare, sta cercando di scaricarlo, ok, adesso mi dice, ad esempio nel mio computer, che è già l'ultima versione, però l'unico consiglio che ho da darvi, perché è un software che si installa cliccando avanti, dovete solo defleggare la schermata, in cui vi chiede di compilare tutti gli studi, quando arrivate a quella, sono 3-4 schermate, in cui vi chiede dove installare Multicharts, in cui vi chiede se siete d'accordo, se accettate la nota informativa, tutti come al solito voi cliccate sempre avanti, senza saperne leggere né scrivere, almeno io faccio sempre così, in realtà mi è sempre meglio guardare quali sono i flag, e nel caso di Multicharts, il consiglio è quello, quando arrivate all'ultimo, all'ultima schermata, sono 3 flag, ce n'è uno che vi dice, che andrà a compilare tutti gli studi, voi lo togliete, se lo togliete, velocizzate il processo di installazione di Multicharts, perché a volte potrebbe bloccarsi, sulla compilazione di tutti gli studi, in fase di installazione di Multicharts, che non è necessario, e dopo siete a posto, quando avete finito questa parte di installazione, troverete sul desktop, queste 4 icone, e vi consiglio, subito, di impostare i permessi di apertura, perché Multicharts, da meno problemi, se viene avviato, con i privilegi amministrativi, ora da Windows 7 in avanti, Windows ha distinto l'apertura dei software, con o senza privilegi amministrativi, vedete che se io clicco col tasto destro, su una delle icone, mi dice, dove c'è lo scudo, esegui come amministratore, o vi ricordate tutte le volte, ma il mio consiglio appunto, è di non dovervi, fissare nella mente, di dovervi ricordare, di cliccare su esegui come amministratore, oppure, dopo l'installazione, prendete ogni singola icona, ci fate clic col tasto destro, andate in proprietà, e impostate l'avvio automatico, con i privilegi amministrativi, se andate nella scheda generale, nella sezione avanzate, cliccate nel pulsante, non qua, eccolo qua, scusate, nel collegamento avanzate, mi ricordavo avanzate, ma non è nella scheda generale, nel collegamento, cliccate su avanzate, vedete che c'è questo flag, che non è selezionato, e che si chiama, esegui come amministratore, se voi lo mettete, e applicate, evitate, tutte le volte, di dovervi ricordare, di avviare multi charts, con i privilegi amministrativi, questo è importante, sembra una banalità, ma con alcuni, con alcuni, con alcuni API, quindi con alcuni collegamenti, a qualche broker, potrebbe dare, qualche problema, il fatto di non avere, i privilegi amministratore, amministratore, oppure, quando andremo, con la parte, un po' più avanzata, del corso, a scrivere, dei report, e quindi a fare, dei report, in Excel, in automatico, dalla piattaforma, potrebbero, non scrivere, potrebbe multi charts, non riuscire, a scriverli correttamente, quindi, il discorso, dei privilegi amministrativi, per quanto, non, non sembra, chissà che cosa, però, è importante, una volta, che avete avviato, multi charts, che avete, installato multi charts, lo avete impostato, con i privilegi amministrativi, allora, potete utilizzare, il software, il primo passo, visto che, vi ho consigliato, di, defleggare, la parte, di compilazione, degli studi, in fase di installazione, è quella, di aprire, il power language editor, aprite, quindi, il power language editor, e, che vi comparirà, così, vuoto, e, gli dite, di compilare, tutti, gli studi, a questo punto, lo fate, dopo l'installazione, ripeto, serve semplicemente, perché, in alcuni casi, poi l'installazione, si blocca, mentre fa la compilazione, degli studi, e quindi, meglio fargli finire, l'installazione, e poi, compilare, tutti gli studi, dopo che avete fatto, questo, un riavvio, del computer, non fa mai male, e poi, potete iniziare, ad utilizzare, multi charts, di default, vi caricherà, già, dei dati, quindi, avrete già, dei dati caricati, all'interno della piattaforma, ovviamente, sono, dei dati daily, sono, i dati, di free quotes, che, se andiamo, all'interno, del quote manager, vedete, qua su in alto, ci sono, le icone, di avvio veloce, che, vi permettono, di caricare, subito, un grafico, caricare, subito, uno scanner window, che dopo andiamo, a vedere, e, di aprire, il quote manager, appunto, o il power language editor, gli stessi, comandi, possono essere, azionati, andando qua, su file, new, vedete, che poi ritrovate, le stesse icone, ci sono, tutti gli oggetti, chiamiamoli così, che potete, creare, e aprire, con, multi charts, quindi, ora abbiamo bisogno, di andare nel quote manager, o lo apriamo, dal desktop, facendo doppio click, oppure, lo possiamo aprire, tranquillamente, anche, da dentro a multi charts, è la stessa cosa, non cambia niente, allora, di default, vi si caricheranno, anche, dei dati, di cqg, dei dati, di alcuni fornitori, che, servono solo, per farvi vedere, che, è la piattaforma, che la piattaforma, è multi data feed, di default, ne troverete alcuni, di, free quotes, vedete, ora, li ho ordinati, per data source, a sinistra, invece, noterete, che sono già ordinati, per tipo di strumento, e per exchange, così, se avete bisogno, di vedere, i features, che sono stati caricati, all'interno, del database, che, fanno parte, del mercato, idem, li trovate subito, invece, che andarli a cercarne, l'elenco completo, voi vedrete, che, nel mio pc, sono presenti, più dati, di free quotes, bene, agli iscritti, ai non iscritti, perché comunque, invieremo, il materiale, che state per vedere, a tutti, manderemo, un file, di quote manager, per poterli caricare, in automatico, io però, ora vi faccio vedere, perché altrimenti, se facciamo tutto, noi di algoritmica, che questo ovviamente, è una parte importante, però, dopo, ci si dimentica, alcuni passaggi, quindi è meglio, vederli, allora, per caricare i dati, di free quotes, il file che riceverete, quindi, ci sono due procedure, all'interno, del quote manager, o avete già un file, che è impostato, che è al formato, del quote manager, quindi, un vostro amico, oppure, algoritmica, vi fornisce un file, del proprio quote manager, allora, voi potete andare, ad importare, seguendo il passaggio, che sto mostrando adesso, quindi, dal quote manager, file, import data, import instruments, allora, potete andare a selezionare, un file, punto, qmd, quote manager, data, che conterrà, già, gli strumenti, formattati, per il quote manager, e sono quelli, che vi andremo a dare, di free quotes, così avrete già, un elenco, abbastanza, diciamo, ben, corposo, dei dati di free quotes, però, c'è anche la procedura, qualcuno, qua, qua dentro, gliel'avrà messi, quindi, come si caricano, i dati di free quotes, poi, se, vorrete caricare, altri dati di free quotes, è bene, che conosciate la procedura, allora, se andate nel sito, di Yahoo Finanza, e cercate, Apple, vedete che Apple, oppure se scrivete Apple, il sito già vi propone, dei codici, in azzurro, che sono, i nomi degli strumenti, sono i codici, che vanno poi utilizzati, per creare, lo strumento, all'interno, del quote manager, quindi, ad esempio, Apple, vedete, qua ci sono altri codici, si stavano notando, quello di Google, quello di Facebook, quindi, se vogliamo caricare Facebook, ad esempio, o Apple, dobbiamo utilizzare, il codice, quindi, chiaro che questo, significa caricarli a mano, uno ad uno, però, il discorso è, ora noi ve ne diamo una lista, se poi ne dovete aggiungere, di nuovi, tra un anno, e, saranno quotate altre, altre società, allora, le potrete, tranquillamente, aggiungere, questo come si fa, all'interno del quote manager, che si è chiuso, ecco, voi potete cliccare, su instrument, aggiungi simbolo, manualmente, perché, nel caso in cui, il simbolo, si è riconosciuto, come un fornitore dati, automatico, o dopo vi faccio la distinzione, ad esempio, noi diamo i conti demo, di interactive brokers, automaticamente, si possono importare, le impostazioni, anche degli strumenti, tramite interactive, senza doverli creare a mano, invece, all'interno di multi charts, i dati di free quotes, si caricano manualmente, quindi, seleziamo manuale, e, nell'elenco, dei fornitori dati, quindi, dei data source, trovate, free quotes, che cosa dovete scrivere in symbol? dovete scrivere, esattamente, il nome dello strumento, che volete utilizzare, ma non, adesso, finché del nasdaq, sono abbastanza, o almeno, finché sono apple, google e facebook, li conosciamo tutti, dovete utilizzare, il codice, che figura, qua, quando fate la ricerca, ad esempio, del, vedete, è dvmt, quindi, bisogna scrivere, dvmt, per caricare, Dell Technologies, nel momento in cui, create il simbolo, e lo collegate a free quotes, in realtà, le due informazioni, più importanti, le avete già, messe, perché, in realtà, vi servono, solo due informazioni, il nome del titolo, e il fatto che sia, di free quotes, perché dopo, ci pensa multi charts, a chiedere i dati, a free quotes, queste due informazioni, non sono indispensabili, per il funzionamento, dei dati di free quotes, nel senso che, potete mettere, anche a caso, cosa che non vi consiglio, di fare, ora, nel caso specifico, queste sono azioni, quindi stocks, e il mercato, è il Nasdaq, però, free quotes, funziona uguale, funziona allo stesso, allo stesso modo, anche se voi dite, che questo è un titolo, l'nqlx, semplicemente, ve lo andrà, a mettere, nelle categorie, qui sulla sinistra, quindi, quando poi dopo, cliccherete ok, ve lo ritroverete, adesso mettiamocelo, sempre nel mercato, one, che non c'è niente, vedete, nella categoria stocks, dove ho il mouse, a sinistra, non c'è il mercato one, perché non ho messo, non ho mai messo, alcun dato, all'interno del mercato one, se io ora clicco su ok, mi si apre la mascherina, ovviamente, i dati di free quotes, sono dati gratuiti, e quindi sono dati, solo giornalieri, per questo motivo, non importa, che andiate ad impostare, le sessioni, non è importante, le sessioni sono molto importanti, sono indispensabili, per i dati intraday, le impostazioni, delle azioni, sono molto semplici, almeno quelle americane, non hanno tutte le complicazioni, che abbiamo noi in Italia, e le descrizioni, la descrizione, la potete semplicemente, copiare dal sito, quindi se dite ok, applica e ok, vedete che a sinistra, mi ha caricato all'interno, del mercato one, il titolo, spesso, molti di voi, mi chiedono, perché questo, sia off, anche con i broker, che scaricano, i dati in tempo reale, questo deve stare off, perché, non ha niente a che vedere, con il fatto, che ci sia un collegamento, tra il simbolo, e, il proprio fornitore dati, questo, flag, va messo on, cliccando su connect symbol, dopo aver fatto clic col tasto destro, solo se volete collezionare, i dati tick by tick, di uno strumento, mi spiego meglio, quando aprite lo strumento, e poi andate a chiudere, multi charts, multi charts, i dati li, li mette nella cache, ora non entriamo nel, 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 nel dettaglio, su cosa sia la cache, ma di fatto, eh, la cache, aiuta multi charts, a, ricordarsi, che, certi dati, erano già stati scaricati, e quindi non deve, tutte le volte, andare a richiedere, a, a Yahoo Finance, ridammi indietro, nuovamente, i dati di, adesso ho caricato, Amat, fino agli anni 2000, perché li aveva già scaricati, questo però avviene solo, se, io apro un grafico, di questo strumento, se io volessi collezionare, i dati tick by tick, di, chiaramente non lo posso fare, con free quotes, però, una volta che ho caricato, lo strumento, con quello che è il fornitore dati, posso fare click, col tasto destro, metto, connect symbol, questo, diventa on, e inizia, a collezionare, tick by tick, tutti i dati, ovviamente, deve stare aperto, multi charts, ma non è necessario, in questo caso, tenere aperto, un grafico, ci sono tre tipi di dato, all'interno, di multi charts, il dato, manuale, lui li distingue in due, però, a me piace fare la distinzione in tre, c'è il dato manuale, che è quello che abbiamo visto adesso, e che, ha lo stesso peso, del dato asci, il dato asci, è, più banalmente, asci è una brutta, potrebbe non piacervi, o almeno, non suonarvi come qualcosa di conosciuto, asci banalmente, è un formato, che, può essere paragonato, a quello che è il file di excel, quindi, se avete un file di excel, che contiene dei dati di borsa, li potete inserire, all'interno di multi charts, chiaro che dovranno essere ben organizzati, in colonne, ogni riga dovrà avere, la sua data, la sua ora, però, tutte queste informazioni, saranno contenute, all'interno di, celle, di excel, se voi create, un data, un data source, asci mapping, e lo chiamate, apple, lo rimettete, sempre lì, vedete, vedete, ora, ce ne sono due, uno, però, che, è free quotes, e uno, che è asci, quello free quotes, si collega, già automaticamente, a tramite, Yahoo finance, quello asci, se io adesso, lo provassi ad aprire, sarebbe vuoto, allora, in quel caso, c'è un passaggio in più, tutto quello, che stiamo vedendo adesso, ovviamente, lo rivedremo, con più calma, quando faremo, il caricamento, dei dati asci, quindi non vi preoccupate, non corriamo mai, durante il percorso formativo, quindi, ora, è giusto per darvi anche l'idea, di alcuni passaggi, e di come si distribuisce, si divide, tutta la, la gestione dei dati, all'interno di multi charts, però, una volta che avete, creato il dato asci, che quindi è una scatola vuota, perché, il dato di free quotes, ha il collegamento, è come se avesse un ponte, che lo collega direttamente a, Yahoo Finance, il dato asci, non si collega da nessuna parte, è una scatola vuota, che va riempita con i dati, allora, in questo caso, è necessario, come vi dicevo, avere questo file di Excel, cliccare col tasto destro, su quello che è lo strumento, dirgli import data, e asci, vi caricherà automaticamente, una, una casella, ad esempio, vedete qui ce ne sono alcuni, che avevamo, creato nel 2015, addirittura, e io qui dentro, ci posso andare a, importare, alcuni dati, questo, è quello che compare, è quello che comparirebbe, se aprissi il file di testo, questo è un txt, ma è un file csv per intenderci, o xls, comunque i file di Excel, se vi do tutte queste, diciture, potrebbero suonarvi strane, ma in realtà, niente di complicato, sono dei file, che si possono aprire, ecco, e dentro, trovereste, questo contenuto, quindi una data, un orario, e dei prezzi, automaticamente, lui già, inizia a capire, come deve distribuirli, vedete, multi charts, la prima colonna, è la data, la seconda, è l'orario, open, high, low, in close, quindi apertura, massimo, minimo e chiusura, up tick, down ticks, potrebbero essere up volume, down volume, potrebbe, avere il prezzo di chiusura, al secondo posto, cioè dipende, quando è stata creata, la serie storica, e quindi il file di excel, come è stato distribuito, in genere, questa è la, la distribuzione, classica, di un, un file di testo, di un file di excel, che contiene, dei dati di borsa, però poi, io posso andare a specificare, che cosa sia, il valore, della terza colonna, dopo aver cliccato ok, il contenitore, è pieno, e quindi posso caricare, i dati all'interno, di multicharts, e metterli nel grafico, dopo multicharts, li legge, quindi il primo tipo di dato, è quello manuale, che sono quelli, che solitamente, vengono gestiti, con free quotes, e asci, poi ci sono i dati, meta stock, che si, somigliano molto, ai dati di free quotes, però che si risiedono, nel vostro computer, se voi avete, un fornitore di dati meta stock, che vi da quindi, vi fornisce, delle cartelle, in cui andare poi, a scaricare, questi dati meta stock, ora vi ritrovo, la cartella, ecco qua, ad esempio, noi, durante il percorso formativo, vi forniremo, il database, di FIDA, abbiamo una partnership, con loro, e quindi loro, ci permettono, di distribuire, appunto, ai nostri discenti, il database, ovviamente, specificando, che è il loro database, e però, ci permettono, di fare poi, dei test, su questi dati, che sono solo giornalieri, nel caso specifico, però, questi sono dati meta stock, che sono, organizzati in cartelle, vedete, come li posso io gestire, bene, sempre dal quote manager, anche questa è una procedura, che rivedremo con più calma, però, io posso, andare a, adesso non la vediamo, tutta la procedura, però, devo andare a specificare, dove si trovano, i dati meta stock, quindi, rispetto a free quotes, che già sa, dove deve andare a prendere i dati, i dati meta stock, necessitano, di essere istruiti, cioè, devo andarli a dire, le cartelle meta stock, sono là, dentro al desktop, dentro a c, due punti, dove le ho messe, automaticamente, multi charts, riconosce tutte le sottocartelle, e a quel punto, se io vado dentro, dentro il quote manager, faccio aggiungo simbolo, dal data source, e seleziono dati meta stock, se scrivo, asterisco, e clicco su look up, automaticamente, mi ritrovo, tutto il database, dei dati meta stock, disponibile, vedremo con più calma, come distribuire, anche le varie cartelle, dei dati meta stock, perché, appunto, ora qui, lui ha caricato, senza fare distinzione, tutti, tutti i dati contenuti, all'interno di commodities, tutti i dati contenuti, della cartella di future, tutti i dati contenuti, in index, senza fare le distinzioni, io potrei, gradire, di mantenere, questa distinzione, all'interno del quote manager, per non fare troppa confusione, avere troppi dati, tutti all'interno, tutti insieme, bene, c'è modo di distinguerli, vedremo con più calma, la procedura, altrimenti, stasera, non riusciamo a vedere, tutto quello che dobbiamo, vedere, quindi, questo è il secondo tipo di dato, meta stock, che vi ripeto, è una via di mezzo, fra, anzi, molto simile ai dati di free quotes, solo che free quotes, sa già dove deve andare, meta stock, ha bisogno di essere, informato, sulla, sul posto in cui, sulla cartella in cui, si trovano effettivamente i dati metastone, poi abbiamo i dati, dei fornitori dati, che sono tutti quelli, che si caricano, da questo elenco, che l'elenco si può espandere, a seconda del broker, vi faccio l'esempio, ora qui vedete che non c'è, un broker italiano, che è Banca Sella, Banca Sella si può interfacciare, con Multicharts, però, dal momento che ha sviluppato, per conto suo, quindi non ha fatto fare a Multicharts, ha sviluppato, internamente, il plugin, per interfacciare Multicharts, con il proprio conto, dopo aver installato Multicharts, Banca Sella, vi fa installare un plugin, a quel punto, dopo aver installato, quel plugin, trovate anche, quel broker, all'interno dell'elenco, dei fornitori dati, quindi, è un passaggio in più, in fase di installazione, però, poi dopo lo trovate nell'elenco, tutti questi fornitori dati, vi permettono di caricare automaticamente lo strumento, un po' come stavamo guardando in Metastock, che ci dava l'elenco completo, e i dati, ve li van a prendere direttamente, dal fornitore dati, un po' come, quindi all'insieme, dei dati Metastock, Metastock, diciamo che prende i pregi, dai dati Metastock, e i pregi dei dati di FreeQuotes, perché, perché sa già dove deve andare a prendere questi dati, come FreeQuotes, e, automaticamente, vi permette di caricare gli strumenti, come Metastock, con le relative impostazioni, quindi, questi sono, diciamo, i tre tipi di dati, mi fate alcune domande, allora, mi chiedete se la piattaforma è gratuita, no, allora, la piattaforma è, in prova, 30 giorni, quindi, quando la scaricate, la potete provare per 30 giorni, dopodiché, hanno tolto il tasto Buy, così uno non si ricorda, se lo volesse comprare,